Tra gli strumenti di pagamento disponibili, il credito documentario, noto anche come lettera di credito, rappresenta lo strumento di pagamento più indicato nel caso di operazioni internazionali, in particolar modo, ma non solo, in paesi dove un'eventuale azione di recupero del credito potrebbe risultare complessa, dispendiosa e dall'esito incerto. Al di là dei casi in cui il paese del compratore sia un paese ad elevato rischio, ogni qualvolta il grado di conoscenza della controbarte è basso, oppure il rischio di insolvenza risulta elevato, è opportuno richiedere il pagamento attraverso tale strumento, che comporta l'emissione da parte della banca del compratore, detta banca emittente, appunto del credito documentario. Vediamo in cosa consiste. La lettera di credito è un impegno irrevocabile, emesso dalla banca emittente nei confronti del beneficiario venditore, di pagare una determinata somma entro una determinata scadenza, dietro presentazione e relativo esame dei documenti richiesti dal credito documentario. Tale impegno irrevocabile costituisce quindi giuridicamente un'obbligazione della banca emittente. Possiamo inoltre dire che il pagamento della banca sarà certo, autonomo e definitivo. I crediti documentari sono disciplinati dalla pubblicazione UCP 600 Uniform Custom Practice della Camera di Commercio Internazionale, meglio conosciuti in Italia con l'acronimo NUU, Norme Unitarie e Uniformi sui crediti documentari. Tale pubblicazione, revisionata nel 2007, disciplina in dettaglio il funzionamento dei crediti documentari, stabilendo non soltanto i caratteri dell'operazione e le obbligazioni delle parti, ma anche i criteri che la banca deve seguire nell'effettuare l'esame dei documenti. Come accennato in precedenza, il pagamento della banca sarà, certo, autonomo e definitivo. Questo significa che in presenza di documenti conformi, la banca non potrà rifiutare la prestazione, e questa è la certezza, a prescindere dalle sorti del contratto principale in essere tra il venditore e il compratore. Vediamo quindi la caratteristica dell'autonomia e, per la definitività, che il pagamento non potrà essere in nessun caso effettuato salvo buon fine, quindi collegato all'effettiva possibilità della banca di poi poter riuscire ad addebitare l'importo pagato dal compratore. Illuminante e chiarificatore, in proposito, è l'articolo 4 delle norme sopracitate, il quale stabilisce che il credito documentario è distinto dal contratto di vendita o altro contratto su cui può fondarsi. Tale contratto, recita la norma, non impegni in alcun modo le banche coinvolte, nonostante qualsiasi riformimento al contratto stesso contenuto nella lettera di credito. L'articolo prosegue poi dicendo, nella seconda parte, che l'impegno della banca di pagare non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte del compratore fondate sui rapporti esistenti tra esso e la banca emittente o tra esso e il beneficiario. D'altro canto, il beneficiario non può sollevare eccezioni riguardanti i rapporti tra le banche o tra il compratore e la banca emittente. Da quanto letto, si evince l'autonomia del credito documentario, specialmente dal punto di vista soggettivo. Il successivo articolo 5 recita invece, e questo riguarda il profilo oggettivo, che le banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i documenti possano riferirsi. La peculiarità dell'autonomia dell'obbligazione della banca rispetto alla fornitura consente, in presenza di un positivo riscontro dell'esame documentale della banca emittente, di svincolare il pagamento dalla volontà del compratore e quindi, in un certo senso, di eliminare il rischio di insoluto, riconducibile alla categoria del rischio commerciale. Purtroppo, spesso, gli operatori affrontano con leggerezza il credito documentario, non prestando la dovuta attenzione, ad esempio, alle scadenze riportate nella lettera di credito, piuttosto che alla tipologia dei documenti richiesti o ai contenuti di tali documenti. Tutto ciò crea quindi poi i presupposti per le riserve sui documenti da parte delle banche e, di conseguenza, di non ottenere il tanto sperato pagamento, oppure ottenerlo previo assenso e scioglimento delle riserve da parte del compratore. Questo aspetto comporterà una risurrezione del rischio di insolvenza legato al compratere, nonché un ulteriore aggravio di costi da sostenere. Per evitare che questo accada, è molto importante, prima che la banca emette il test definitivo del credito, lo scambio di facsimili, al fine di accertare, dal punto di vista del venditore, di quali siano le caratteristiche, i documenti richiesti e quali dati tali documenti debbano contenere, nonché delle scadenze previste, come ad esempio la data di spedizione ultima della merce. Dal punto di vista del compratore, invece, pensiamo al caso di una lettera di credito import, richiedere documenti che consentano poi alla banca del compratore di accertare quanto più possibile la conformità della merce all'ordine. Si tenga presente, a tal proposito, che in presenza di documenti conformi, la banca effettua il pagamento, a prescindere da quella che poi risulta essere l'effettiva qualità o quantità della merce, anche nel caso in cui la merce venga ritirata dal compratore prima che avvenga l'effettivo di pagamento. Si è detto in precedenza che attraverso la lettera di credito si elimina, ma meglio sarebbe dire si limita al minimo, il rischio commerciale. Tuttavia, essendo la banca emittente dello stesso paese del compratore, laddove il paese sia rischioso, tale rischio continua a sussistere. Ancora una volta intervengono le norme della Camera di Commercio Internazionale in proposito, prevedendo l'istituto della conferma al credito documentario. Vediamo in che cosa consiste. Attraverso la conferma all'impegno originario della banca emittente se ne aggiunge uno ulteriore, spesso ma non necessariamente della banca del beneficiario, di pagare dietro presentazione e relativo esame dei documenti. Con la lettera di credito confermata, la presentazione dei documenti avverrà presso la banca confermante, sia essa quella del venditore, altra banca nel paese del venditore o addirittura in un paese terzo, purché non rischioso, spostando quindi il luogo del pagamento e il soggetto bancario obbligato e di conseguenza eliminando anche il potenziale rischio paese o rischio politico. Ovviamente la conferma è un costo ulteriore che si aggiunge ai costi di emissioni e tale costo spesso viene ritenuto a carico del beneficiario stesso. Il credito documentario, in base agli accordi intervenuti tra le parti, può prevedere diverse modalità di pagamento. Le norme a riguardo distinguono tra onorare o negoziare il credito. Tralasciando la modalità per negoziazione, il termine onorare comprende tre diverse possibilità, pagamento a vista, pagamento differito, pagamento per accettazione. La prima prevede che il pagamento avvenga immediatamente dopo l'esito dell'esame dei documenti. La seconda, il pagamento differito, prevede invece che il pagamento avvenga in un momento successivo, stabilito dalle parti, ad esempio 60 giorni dalla data di spedizione della merce. In merito a questa seconda ipotesi, si noti che, nonostante il pagamento avvenga in un momento successivo, l'obbligo della banca di effettuare il pagamento scatta al momento in cui il risultato dell'esame dei documenti sia positivo. Si tratta appunto di un termine e non, come erroneamente si potrebbe pensare, di una condizione. Pertanto, il diritto a riscuotere si perfeziona con l'esame dei documenti e, in virtù dell'autonomia del credito, non è possibile sollevare eccezioni, ad esempio di non conformità della merce, che magari nel frattempo si è ricevuta, prima dell'effettivo pagamento da parte della banca. La terza modalità riguarda invece il pagamento per accettazione di tratte. Tale modalità è tipica delle vendite con lunghe dilazioni ed è uno strumento che consente di limitare, nel lungo periodo, i rischi di un credito, in quanto vengono spiccate delle tratte in titoli di credito, non sul compratore, bensì sulla banca emittente. Questo è un aspetto fondamentale se si considera che l'obbligato cambiario sarà la banca e non il compratore, aumentando di conseguenza il livello certezza dell'effettiva riscossione del credito cambiario vantato. A tal proposito, come anche nel caso di pagamento per negoziazione, il venditore beneficiario ha la possibilità, seppure a titolo oneroso e quindi sostenendone i costi, di monetizzare il credito dilazionato a seconda dei casi prosolvendo, prosoluto, avendo la possibilità appunto di offrire una dilazione al cliente e allo stesso tempo di non sopportare i tempi della dilazione stessa, migliorando quindi i propri flussi di cassa. Le parti possono poi ulteriormente personalizzare il credito, disciplinando ulteriori aspetti, quali ad esempio la possibilità di utilizzi e o spedizioni parziali, le tolleranze consentite, l'eventuale trasferibilità di tutto parte del credito ad ulteriori beneficiari. Esistono poi alcune altre tipologie particolari di credito documentario, oltre al credito trasferibile appena menzionato, quali ad esempio il credito revolving, una tipologia di credito documentario che si rinnova automaticamente un determinato numero di volte alle stesse condizioni e che risulta quindi indicato nel caso di forniture ripetute nel tempo. Altra figura è il credito back to back, utilizzato come credito base, finalizzato all'emissione di un ulteriore credito, utilizzato per pagare, sempre a mezzo lettera di credito, eventuali fornitori a monte. Una particolare figura di lettera di credito, degna di nota, è la lettera di credito stand by. Infatti la stand by, pur essendo disciplinata dalle norme sui crediti documentari, presenta le caratteristiche essenziali della garanzia bancaria, perché pur consistendo nell'impegno irrevocabile della banca emittente di pagare entro la scadenza su presentazione di documenti conformi, è legata al verificarsi di un evento che nel caso di spese consiste nel mancato pagamento, ad esempio via bonifica, dell'importo. La prestazione bancaria in tal caso non sarà più certa autonoma definitiva, bensì eventuale, autonoma e definitiva. È il carattere dell'eventualità della prestazione che la avvicina quindi alla garanzia bancaria, pur legandola alla presentazione di documenti, questo che invece è il tratto saliente del credito documentario. In tali casi però si tenga presente che i documenti da presentare sono solitamente minore e tesi a provare l'effettivo adempimento da parte del venditore. In conclusione, il credito documentario è uno strumento valido, ma richiede una conoscenza profonda delle norme che lo regolamentano, al fine di riuscire a comprendere soprattutto la natura dei documenti richiesti e le caratteristiche, nonché i dati che tali documenti devono riportare. In mancanza, il venditore rischia comunque, come visto in precedenza, di non ottenere il pagamento a causa di errori da egli stesso commesso, vanificando quindi costi e sforzi sostenuti. A tal fine è opportuno che chi in impresa si occupi di tali aspetti acquisisca, autonomamente piuttosto che seguendo percorsi formativi, le dovute conoscenze al fine di eliminare tali criticità. Grazie a tutti i nostri spettatori